La Polizia di Stato di Latina, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha eseguito questo martedì una misura cautelare nei confronti di 25 persone appartenenti a un clan criminale Rom, ritenute responsabili di associazioni di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reati elettorali. Si tratta della prima volta che viene riconosciuta in territorio pontino l'esistenza di un'associazione mafiosa autoctona non legata a gruppi criminali siciliani, calabresi o campani.